Un nuovo risveglio all'alba e poi la discesa nell'arena del Grand Palais di Lille. E' iniziata l'ultima giornata di Euroskills e la corsa verso la medaglia non concede pause. Un esempio? Il gran lavoro dell'infaticabile lattoniere Armin Flarer. Da un punto di vista estetico e di pulizia del lavoro la performance di Armin è stata tra le migliori in assoluto. Peccato solo per qualche imprecisione nelle misure. I primi giorni ci sono state diverse discussioni sullo sviluppo dei lavori e la cosa ha reso tutti un po' confusi. Nel corso della mia prova ho commesso alcuni piccoli errori, ma sono riuscito a sistemare ogni cosa. Tutto è ancora aperto. Neumatici e sospensioni chiudono le Euroskills del meccanico Simone Ciulla, mentre nell'area ristorazione anche per Dionis Blosenko è ormai quasi tempo di tirare le somme. Fino adesso è stata dura, è stata dura. Abbiamo iniziato il primo giorno, era una novità. Il secondo giorno era veramente faticoso. Oggi speriamo che appunto la tensione ci tenga forti. Una tensione che si respira forte anche tra i cuochi, con lo chef Pietro Behanato ormai agli ultimi dettagli per il completamento del proprio menù. Oggi ci aspettano i finger food di mare. Siamo pronti, carichi motivati, l'ultimo giorno di competizione, per cui daremo il massimo. Nei giorni di gara che sono già stati fatti, effettuati, la pressione ha giocato un lavoro estremamente importante. Fortunatamente i tempi di reazione sono stati buoni, per cui il lavoro che è stato svolto è stato svolto comunque con una certa accuratezza e competenza. Ma ecco che ci siamo. L'inflessibile orologio di gara arriva all'ora X e il primo competitor del team Italy può festeggiare la fine della propria fatica. Super! Sono riuscito a finire entro il tempo limiti e questa era la cosa più importante. Basta spostarsi di pochi metri ed anche per Benjamin Tyler siamo agli ultimi dettagli. Una spazzata alla mochetta, una rapida pulitura del legno ed eccola il fischio finale. Sono cotto. Adesso una birretta fresca e speriamo bene.